La prima cosa che devo chiedere al sindaco russo è cosa vuole fare di questa azienda, perché se questa amministrazione aziendale continua questo passo siamo destinati a desternalizzare altri chilometri, a privatizzarla praticamente. Siamo qui responsabilmente a chiedere al sindaco se ha voglia di intraprendere un percorso di risanamento vero e di rilancio del trasporto pubblico. L'azienda sta comunque, nonostante la nuova amministrazione aziendale, vuole incidere, vuole recuperare il buco di bilancio, se volete esclusivamente sugli operatori di esercizio, operai, tecnici e personale comunque del verificatore fiscale eccetera, perché sta smaltellando quel settore e quindi noi siamo qui a farci ascoltare dal sindaco perché è una situazione abbastanza preoccupante in quanto andando così avanti questa azienda non ha più futuro perché comunque c'è una carenza di personale impressionante, le condizioni di lavoro che hanno gli operatori di esercizio ormai sono insostenibili e non sono equiparabili allo stipendio, per cui abbiamo diversi licenziamenti, mai successo negli ultimi vent'anni che ci sono dei licenziamenti anche di gente con 10, 15, 20 anni di anzianità. Quando parla di mancanza di personale a quante unità si riferisce? Ma noi abbiamo fatto un'approssimativa, noi contiamo che ci vorrebbero ad un stato attuale almeno 200 operatori di esercizio in più, perché l'azienda dice anche meno, ma perché l'azienda lavora sullo straordinario strutturale e non è neanche corretto. Condizioni di lavoro, lei si riferisce a turni massacranti, si riferisce a straordinari che diceva essere ormai diventati la prassi? Sì, è uno straordinario strutturale, l'azienda lavora con questo straordinario strutturale, nonostante ciò ci sono ad oggi all'apertura delle scuole alcuni depositi avevano buchi di 60 ai 30 ai 40 di operatori di esercizio che non sono usciti perché non c'era personale, quindi per la città si ripercuote un monte di servizio. Questione economica, questione di stress, praticamente la spesa non equivale all'impresa, su un mese avranno 10, 12, 13 giornate che sanno che il turno fanno, tutto il resto gli arriva dopo le 4 e mezza, le 5 la sera, 16, quindi non riesce neanche a organizzare la propria vita familiare, eccetera. Quindi la responsabilità, perché no, le aggressioni che si stanno sempre aumentando perché il disservizio poi, l'operatore di esercizio è il primo impatto che un cittadino ha quando subisce il disservizio e spesso e volentieri si finisce, ci sono diversi episodi di addizione.